musica 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 levo il botten vai vai messo nello sga porca puttana troia ora facciamo un bel drop serio fatto bene musica 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 l'importante è che riusciamo a sopravvivere no questo qua però devo bloccarmi in caduta no c'è la madre rotta eh l'ha provato mi sa che sto un po' basso io perché hai riuscito a bodybolcarmi in caduta io sono alto sufficienza tu ce la fai io no io vado sotto di te subito dentro dalla finestra cosa c'è lì c'è una balestra è vinto allora tu cazzo tu cazzo c4 tac ma ci credi che non c'è nessuno sopra i tatti oh non c'è un cazzo di nessuno sopra i tatti tiani scendiamo dalla finestra si vado eh eccolo pushano non c'è nessuno oddio sei tu io sei tranquillo ok ci accetta ti tiro il pozzone o ci sono pozzette lì? eh no assolutamente no ok ok pushiamo un side quale side? alla L side L da un altro c'è uno sopra il tetto mi pare però c'ho la mia arma vado a prenderla eh il medikit ho io agli stack ce l'ho pure io ok ok va bene al campo da tennis e c'è gente anche al palazzo di mattoni mi sembra di aver intravisto qualcosa sotto di noi mi ha spaccato ok non è male sempre da la, sempre da dentro si 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 non è morto scusa gli ho tirato io una tritata col fucile ho fatto solo air shot è fortissimo mate olè puliti and let's get in oh micchia sono svenuti tutti ogni colpo sveniva uno allora posso prenderlo questo blue? grazie se no urlo già te l'ho lasciato di default so che lo odio no no io io lo odio come arma beh porto le bande a sto punto ehm occhio che stai correndo mi sta lasciando back arrivo sto cercando di capire dove sono quelli che hanno lootato qua davanti a me ho bisogno di shieldini più di qualsiasi altra cosa al mondo bro vado a lootare scusami ho bisogno di shieldini assolutamente non possiamo giocare senza shieldini in due shieldini ah c'è shieldini e vampa vieni arrivo vieni che se no non posso portare quest'arma ah ok arrivo su c'è pure il vampa eh giardini giardini oh ma questo ho dato il cazzo pensavo fosse uno no worry brother al suo servizio ce l'ha il medikit? si ce l'ho le bande tranquillo fai te arriva dal retro apri la porta vado io e niente niente questo non non faceva parte manco del loro sistema c'è un po' svegli da un rene per una pozzetta comunque quando metti la trappola e non te la mette mi viene da urlare che la devi ti puoi cliccare di nuovo si 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 non voglio urlare non capisco ok dietro si da in mezzo alla strada uno salgo sopra questo palazzo lo vedo lo vedo 2 2 2 uno sta bianco due hit li ho messo i tati in testa uno sono due siamo full team mi devo curare io mi fullo eh down io mi fullo pet non ti posso coprire si fai fai preso minchia che hs che gli ho fatto bravo pet non puoi fare sub gratis devi avere il prime bravo pet veramente bravo non metterò se hai gestito sto fight o sei solo te cioè io un po' di soppressione gliel'ho fatta ma scudini torno subito te lo devi venire a prendere però lo scudino si si ti ho bugato per prenderti la cosa arrivo scuduta 50 me lo tiro io e mitraglietta oh mio dio me la prendo subito la mitraglietta ce l'hai colpi di smg ancora si frulla si vai vai tira lì bella ah ma io si frulla ora cominciamo a muoverci verso crisi barra shifty vai ragazzi ragazzi venite voi verso loot lake barra dal lato di shifty e noi continuiamo ad andare verso ovest ok? ok 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 a noi ci hanno stilato una kill a noi no comunque noi la merced abbiamo trovato nessuno solo un team e mezzo nient'altro andate verso salti da quel lato ci dovrebbe essere gente guardiamo dusty loot lake noi quindi? eh penso di si noi andiamo verso ovest sud ovest noi allora vediamo andare veduto lake e poi nord anche se secondo me c'è più gente qua dal lato nostro secondo me c'è qualcuno qua vedo scale power che hai detto? che vedo scale a shifty stiamo andando a controllare le vedi betto? no io sto salendo te hai visto qualcosa? botto di scale a shifty guardo crisi tipo qualche team outsider no lo vedo non entra nei golpi sta talmente lontano che non entra nei golpi c'è una limite di shifty si poi dobbiamo rientrare tilted praticamente si stanno fightando si stanno fightando si sono noccati c'è uno ha noccato qualcuno con rifle merda no ero troppo lontano con il fucile si è mosso di un metro e i colpi non andavano più lì dove vedi la cosa di mattoni era anche se li ammazziamo più noi non possiamo fare era rihanna li vedo gli altri stanno a 62 io non ho ct2 non vedo il tarts andiamo betto muoviamoci subito eh luto al volo prendi tu casa al volo io metto e vado indietro qua ci sono gli shieldini tra i cavoli prendili tu prendili tu c'ho il medikit hai fatto tu quelle scale di mattoni enormi? no no non ho fatto nessuno ah qualcuno da dietro guarda quelle scale io prima non le ho viste mmm non le sto guardando potrebbe essere uno io sicuro non le ho fatte quelle ci avevano 100 di materiali a testa cioè tutti e quattro che schifo oh non ci ho fatto caso io hobbit sta knockando qualcuno quindi buono oh ci abbiamo il phase contro incredibile grazie mille dinastini per la sub benvenuto bro della dpg del tetraines sghedit ora ci devi dire però perchè hai fatto la sub devo far cadere della gente ok ne ho fatti cascare 3 ne rimane uno madonna buono 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 ce l'ho qua davanti ce la fai? eh non so come prenderlo io sono lontano vabbè considera il blu considera il blu che può uscire devo cercare di bugare prima che fa la scala è toccato uno occhio perchè arriva il blu il jo te lo sto dicendo ti ha messo a correre il tipo mi sa io sto venendo verso di Taman in ogni caso dobbiamo tornare dentro la build sei sicuro di stare da dentro? fatto hai bisogno di band hai bisogno di band hai bisogno di band grazie dinastini no 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 un medikit muo entro e me lo tiro io sto cercando tilted 12 ore ragazzi le faccio quasi sempre cioè sono a 9 ore di streaming ora per me la 12 ore è una cosa normale non è una maratona la maratona è 24 e quella la faremo no worry spero di riuscire a entrare ma mi devo tirare un medikit nice scusa mi sono staccato da dei pet ma li dovevo finire beh hai fatto bene che li hai trovati girati in senso anti orario noi stiamo girando in senso orario ragazzi ok vuoi dire il medikit a cazzo duro in piedi eh te lo dico vai 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 più senza paura tanto non c'è nessuno perchè qua in quest'estate grazie matteo 777 sub hanno preso hanno preso drop alle cascate ci vedo? è sembrato che sia si 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 c'è un tizio ho messo due hit sopra gli ho messo laonato uno mi da dietro sali 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 tu pensa a salire down l'altro è bianco quello lì bianco ancora ultimo hit ultimo hit ti prego prendilo mi sta tritando vai aspetta degli shieldini abbiamo pure una jump pad l'ultimo lol l'ultimo lol quanto abbiamo fatto? ed è l'ultimo boys ci manca l'ultimo stavo facendo live qualcuno c'è stato un drop di merda per passare la macchetta c'è stato un drop di merda per passare la macchetta c'è stato un drop di merda c'è stato un game di merda e l'abbiamo trovato 300 euros pozzo di chi l'abbiamo fatto Ci siamo mossi bene più che altro Porco il cazzo Cioè 24 In due versus squad Cioè non è stato per niente male Sì arrivo col jump Va davanti No tu sei suicidato GG Eh Luca non si stava correndo Ne avete fatto 24 scelta Che schifo Eh vabbè shit happens